Alitalia è morta, viva Alitalia, l'ultimo volo della compagnia aerea italiana di giovedì sera accompagnato dalla dichiarazione di comiato del comandante del volo. Sembra quasi una burla alla luce dell'accordo che vuole che la nuova società si chiami Alitalia. I commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria infatti si sono accordati con i manager di ITA per cedere il marchio per 90 milioni di euro rispetto ai 290 iniziali. Quello stesso marchio messo in vendita all'asta andata, però deserta. ITA eredita anche gli aerei, le divise, i codici di volo e di identificazione dei biglietti. Per il momento c'è solo un aereo celebrativo di questo nuovo corso che venerdì mattina ha fatto Milano Linate Bari. ITA volerà in appena 16 aeroporti italiani, in 23 Europa, Nord Africa e Medio Oriente, in due intercontinentali New York e Tokyo.